buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video attragato al tecnoblog.com oggi scopriremo come creare delle cartelle su iphone e ipad oggi lo vedremo su iphone al procedimento lo stesso anche per ipad dato che utilizzano lo stesso sistema operativo per creare delle cartelle sarà sufficiente tenere premuto sopra qualunque applicazione come in questo caso finché le applicazioni cominciano ad oscillare attenzione però che su iphone come mi appena successo di ultima generazione è presente il force touch ossia un sensore della pressione che in base alla pressione esercitata sullo schermo attiva delle funzioni quindi facendo un click lieve verranno fuori tutta una serie di impostazioni dell'applicazione se invece facciamo un tap più forte prolungato inizieranno a muoversi quindi dobbiamo trovarci in questa situazione qua a questo punto quindi cosa basterà fare basterà spostare un'applicazione sopra l'altra e in questo modo creeremo una cartella in questo caso la prima cartella che creerete conterrà solo due applicazioni e potranno essere aggiunte altre facendo uno slide dell'applicazione all'interno della cartella è possibile cambiare anche il nome come in questo caso facendo clic sulla x verrà cancellato tutto il nome di default oppure si potrà cliccando all'interno all'interno della casella modificare le varie le varie lettere nel caso invece in cui cliccate la x cancellerete tutta tutta la tutta la schermata quindi mettiamo prova prova come nome in questo caso quindi facciamo fine e creeremo la cartella è possibile all'interno della cartella creare una serie di pagine aggiungendo le varie applicazioni vediamo invece il caso inverso nel senso che verifichiamo come eliminare una cartella quindi una volta creata basterà cliccare fine facendo clicchi invece su più accederemo all'area dei widget che vedremo in un altro video quindi clicchiamo su fine la nostra cartella quindi sarà qua presente per visualizzare le singole applicazioni verranno visualizzate due icone piccole se clicchiamo dentro accediamo all'interno della cartella con il nome che abbiamo assegnato e l'applicazione nel loro interno per eliminare una cartella basterà prendere l'applicazione e spostarla sulla schermata home in questo caso resterà l'unica applicazione quindi una volta tolte tutte le applicazioni trasciniamo fuori l'ultima applicazione e la cartella verrà eliminata e le applicazioni torneranno come prima quindi proviamo a rifare facciamo in questo caso l'applicazione watch su whatsapp quindi facciamo tutto dall'inizio teniamo premuto inizieranno ad oscillare l'applicazione prendiamo un'applicazione la mettiamo sopra l'altra a questo punto si aprirà la cartella anche qua come prima potremmo modificare il nome oppure lasciare quello assegnato di default ok e questo sarà la nostra cartella per per eliminarla tiriamo fuori l'applicazione che non desideriamo all'interno della cartella resterà l'ultima quindi nel caso in cui abbiate più applicazioni all'interno della cartella dovrete tutte trasferire sulla schermata home e l'ultima sarà quella definitiva che eliminerà la cartella bene anche questo video è stato concluso se ti è piaciuto aggiungi un mi piace iscriviti al canale al prossimo video